Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi come immagino abbiate intuito da titolo e copertina andremo a parlare di Dundel, il campione della regione di Galar, nonché personaggio avvolto fin dal suo primo annuncio da un'aura molto ambigua. C'è addirittura chi dice che questo personaggio potrebbe essere il vero cattivo di Pokémon Spade e Pokémon Scudo. Se seguite le mie teorie sapete che non la penso così, in caso contrario però vedo il link in descrizione qualora vogliate recuperarla. In ogni caso quest'oggi vorrei concentrarmi su un particolare aspetto di questo personaggio che esula completamente le speculazioni riguardo al suo ruolo all'interno della trama e che si concentra di più su due caratteristiche in particolare che fin da subito mi hanno colpito. Due caratteristiche che rimarcano fortemente la personalità stessa di questo personaggio che sono di fatto il suo carattere e il suo vestiario. Dalle varie fonti da cui possiamo attingere informazioni su Dundel, tanto dal sito ufficiale di Pokémon quanto dai trailer stessi, ricaviamo un personaggio tanto popolare all'interno della regione di Galar quanto dalla personalità incredibilmente vanitosa che non si lascia sfuggire a alcuna occasione di rimarcare il proprio record di imbattibilità. E ci basta andare a recuperare uno screen di gioco che il sito ufficiale ci fornisce nel mentre che ci parla di Dundel per andare a rinvigorire questa nostra tesi. In questo particolare frame mostrato Dundel rivolge una particolare frase a un suo sfidante. Tale Laburno, che non si sa ancora chi sia ma suppongo possa essere un nome di default dato al personaggio giocante. Rivolgendosi per l'appunto a quest'ultimo, la frase che dice Dundel è chiara, lui non perde mai e mai perderà. Dunque stiamo parlando di un allenatore che se non vanitoso, come minimo è di certo sicuro al 100% delle proprie capacità o quantomeno delle proprie possibilità di successo. Ricordo a tal proposito che un leak che ho analizzato più volte sul canale riporta come Dundel sia di fatto un truffatore in combuta col presidente Rose che avrebbe rigirato a favore del campione attuale di Galar le battaglie che ha affrontato in maniera tale da promuoverlo poi infine a campione. Ciò però di fatto non cambia assolutamente nulla in quello che abbiamo detto anzi addirittura lo rinvigorisce perché di fatto la sicurezza che Dundel dimostra sarebbe surrogata dal fatto che non potrebbe meccanicamente perdere nel gioco. Ma questa per ora è un'altra storia che non ci riguarda stiamo volando troppo e ci conviene tornare con i piedi per terra al nostro argomento. Tracciata la personalità di Dundel, il suo vestiario ne è la conseguenza più evidente. Di fatto solo una persona altamente sicura di sé e altamente vanitosa quasi sulla soglia della più spudorata autocelebrazione potrebbe vestirsi richiamando il look di un sovrano scimmiottando in questo modo tramite i suoi abiti monarchici quella che probabilmente è stata o è tuttora la famiglia reale di Galar. Attenzione non parliamo solo del mantello color porpora che è sì tipico delle case reali in quanto materiale pregiato ma di fatto non ne è per forza un indice ma parliamo anche del cappellino che riporta sulla visiera in bella vista il pattern tipico di una corona. Insomma che l'abbigliamento di Dundel richiami quello di un monarca è sicuramente dubbio ma di fatto Dundel non è un monarca. E' già stato tra l'altro fatto notare a buona ragione secondo me che il fatto che Dundel si veste in questo modo scredita la possibilità che vi sia tuttora a Galar una famiglia reale regnante perché di fatto nessun sovrano di buonsenso permetterebbe a un personaggio pubblico come Dundel e quindi in grado di muovere le masse con la propria popolarità di scimmiotare la casa reale vestendosi da sovrano quando invece è semplicemente uno sportivo di fondo. Insomma stiamo comunque parlando dell'allenatore più popolare di Galar in una regione in cui le battaglie Pokémon sono più popolari che nelle altre regioni sicuramente un personaggio di questo tipo avrebbe un'influenza sulla popolazione maggiore di un sovrano il quale più che influenzare le persone determina i loro comportamenti tramite le leggi che richiedono l'autorità ma capite bene che se l'autorità è lesa da Dundel allora siamo punto a capo. In questo senso è stato detto che Dundel è sì vestito a mo' di re ma senza che vi sia effettivamente un sovrano perché di fatto a Galar il sovrano per quanto riguarda la popolarità è proprio lui. E questa è sicuramente una riflessione interessante sulla lore di gioco ma a mio avviso apre anche le porte a una sorta di concept analysis di Dundel e addirittura un concept analysis dell'intera popolazione di Galar. So che con questo passaggio probabilmente ho fatto il passo più lungo della gamba ma adesso vi spiego cosa intendo. Parlando della relazione tra Dundel e la monarchia ipotetica di Galar non riesco a non utilizzare una particolare parola ossia scimmiottamento. Scimmiottare di fatto vuol dire proprio imitare in maniera pretenziosa con fare vanitoso, in maniera totalmente superficialotta ed il resto per quanto Dundel possa ricordare il look di un sovrano e possa costantemente imitarlo di fatto non avrà mai il potere effettivo di questo. Sappiamo già che Dundel non è a capo di nulla perché quel posto spetta Rose e quindi non ha alcun potere di fondo ma ha la capacità tramite la propria popolarità di influenzare le persone che lo seguono in maniera vagamente analoga al monarca che legifera sui propri sudditi e dunque ne determina il comportamento. Ma che cosa si celera mai in fin dei conti dietro una caratterizzazione di un personaggio così strano e così complicato da parte di Game Freak? Non so voi ma io credo che il fatto che Dundel scimmiotti la monarchia non sia un modo per far vedere quanto sia deprecabile la figura del sovrano ma piuttosto far vedere quanto lo sia quella di Dundel stesso. Ciò che viene ridicolizzato in questa dialettica a mio avviso non è tanto il sovrano ipotetico che nemmeno conosciamo ma è quella sorta di giullare di Dundel che lo imita in maniera totalmente pretenziosa. E io penso che in questo caso essere criticato non sia solo Dundel ma sia l'intera popolazione di Galar che ha permesso a un personaggio di questo tipo di arrivare a questo livello di popolarità. Di fatto sono stati i fan di Dundel a ergere una persona di questo tipo probabilmente mediocre in tutto meno che nelle lotte Pokémon a idolo di perfezione delle masse. Tagliando un po' più corto e girando meno la frittata che sto facendo io credo che Dundel come l'intera popolazione di Galar vogliano essere nel loro concept una critica al fanatismo sportivo. È ormai evidente e non c'è più bisogno di sindacarci sopra che la Lega Pokémon di Galar si ispiri alle competizioni calcistiche che proprio in Inghilterra terra di ispirazione di Galar si sono formate. Gli sponsor, gli stadi e il pubblico invisibilio tutto rientra all'interno di quell'ambiente che noi identifichiamo prevalentemente con l'ambiente calcistico ma che di base è proprio l'ambiente sportivo in sé e la popolarità che Dundel riceve rientra esattamente in questo sistema. Proprio come il calciatore più forte del mondo anche Dundel viene eretto a modello di perfezione da chi non è altri che un fanatico nel primo caso del calcio nel secondo caso delle lotte Pokémon. Esattamente come vediamo accadere troppo spesso nel nostro mondo chi viene eretto a simbolo di perfezione dal popolino perché di fatto di popolino si parla non è nient'altro che una persona mediocre in tutti gli aspetti fuorché quello di sua stretta competenza. Addirittura nel caso di Dundel se il leak di cui ho parlato precedentemente fosse vero nemmeno nel suo campo specifico risalterebbe l'eccellenza ma piuttosto l'esatto opposto alla mediocrità. E alla luce di ciò io non so se il leak sia vero o falso perché ovviamente non ho la sfera di cristallo ma non mi stupirebbe assolutamente vedere Dundel truffare continuamente all'interno dell'avventura pur di mantenere la propria nomea. Se davvero la Lega di Galar volesse essere una critica al mondo dello sport non mi stupirei di trovarci dalla corruzione del fanatismo della mediocrità spacciata per eccellenza. Sono cose che nel mondo dello sport nel nostro mondo capitano quotidianamente e lo sappiamo benissimo l'abbiamo sperimentato tutti sulla nostra pelle seguendo i nostri sportivi preferiti le nostre squadre preferite che più ne ha più ne metta. E allora permettetemi in chiusura di video due paragoni molto veloci. Io non so se Dundel in Pokémon Spada e Scudo risulterà un personaggio più simile magari a un Mr. Satan di Dragon Ball che di fondo è una persona buona e alla quale non si deve andare contro o magari piuttosto a un Guild Royal Lock di Harry Potter che invece è assolutamente condannabile per i suoi raggiri. E forse sto anche correndo troppo forse davvero Dundel all'interno di Pokémon Spada e Scudo si rivelerà veramente un grande allenatore capace ma sono piuttosto convinto che per il resto all'interno della trama si assisterà a un personaggio banale sotto ogni punto di vista. E attenzione non banale perché non c'erano idee sulla sua caratterizzazione ma proprio perché la sua caratterizzazione è quella di essere una persona semplice e mediocre come di fatto molto spesso questo oggi un idolo è. E questo aspetto qualora si rivelasse vero ma anche se non dovesse esserlo dovrebbe farci un po' riflettere ancora una volta non tanto sul mondo Pokémon ma sul nostro. Se questo sarà Pokémon Spada e Pokémon Scudo allora potrebbe essere arrivato il momento di utilizzare Pokémon per capire un po' meglio quali dovrebbero essere i nostri idoli e quali dovrebbero essere i nostri modelli. E forse arriverà il momento in cui tramite un videogioco potremo chiederci finalmente se vogliamo davvero diventare persone ricche per gli altri ma povere per se stesse. Detto questo io direi che questo video può finalmente dichiararsi concluso. Fatemi sapere se vi è piaciuto qui sotto con un commento e con un like per il resto io vi invito come al solito a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti mi raccomando passate dai social che trovate in descrizione per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale per il resto la campanella per ricevere ogni giorno i feed e noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.